Venezia Torino mamma mia che partita 2 a 1 per il Venezia che al momento stiamo vedendo i minuti finali siamo al 92 circa 2 a 1 2 a 1 per il Venezia vittoria importantissima vittoria assolutamente importante per la squadra di Zanetti che metterebbe veramente un segno importante alla salvezza perché andrebbe a quota 21 comunque con tutte le altre poco dietro siamo chiari però comunque si avvicinerebbe anche alla Sampdoria allo Spezia che stanno lì a 23 a 26 cioè è una buona vittoria per il Venezia che sbanca Torino almeno fino ad ora che stiamo vedendo la partita in live intanto ciao e ben trovati iscrivetevi al canale cosa importantissima e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i prossimi contenuti che escono ogni giorno sul canale se arriviamo a questo video Oddio! Goal in live! Il Gallo Velotti! Dopo che non giocava dal 28 novembre dalla panchina Iuri ci ha messo molte forze fresche per l'attacco ha segnato Velotti! Ha segnato il Gallo! Ha segnato Velotti! Ha segnato Velotti! Oh sta succedendo tutto aspettate non è ancora confermato il gol! Mamma mia! Ma che sta succedendo? Gol di... Annullato! No! Chiama il VAR! Check del VAR attenzione! Check del VAR per un possibile vediamo cosa? Perché viene da una punizione di Brega allora non so cosa potrebbe essere irregolare eh Attenzione perché c'è Pobega che è in una situazione strana raga seguiamo insieme sta... sta... situazione Eh si fuori gioco netto! Posizione attiva di Pobega eh! Questa è posizione chiaramente attiva di fuori gioco eh! Velotti incorrano in rete sì però è fuori gioco di Pobega vediamo cosa riesce dall'arbitro Fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco! E il Venezia può gridare vittoria! Novantanovesimo minuto! Stiamo sul risultato di 2 a 1 di nuovo! Gol annullato! Gol annullato! E ha... Regà io non so non ci credo a cosa sta succedendo! Sta succedendo tutto! Richiamato ancora il VAR! Tolto il giallo a Linetti! Rossa Occhereke! Rossa Occhereke! Nei minuti finali sta succedendo il pandemonio! Il pandemonio! Rosso allo Spezia! Rimane in 10 con David Occhereke che comunque è giocatore offensivo ma ora stanno tutti dietro con il Venezia Ormai il Toro da un po' di minuti sta attaccando non è ancora finita! Novantottesimo! Clamoroso! Clamoroso perché ora La partita si sta facendo pazza! Pazza! Due squadre che vogliono la vittoria! Ora il Venezia se dovesse rimanere così Veramente vittoria è importante! Quota 21 comunque fuori dalla zona di retrocessione Però ovviamente con tutte le squadre attaccate! Però il Toro ha buttato un'occasione per accorciare sull'Europa Che non è un obiettivo ovviamente prestabilito Però comunque se stai lì e stai più vicino possibile È comunque una cosa importante! Ora invece rimangono addirittura dietro al Verona A quota 33 e veramente che partita! Pazza! Una partita pazza! Bellissima! A ritmi veramente alti! Ora parliamo un po' della partita perché sta succedendo e tutto Al quinto minuto ottimo approccio del Toro che inizia bene Segna Bregalo il sesto gol in campionato Tanta roba! Tanta roba! Un giocatore che sostituisce Belotti che oggi è rientrato Dal 28 novembre dopo l'infortunio con la Roma Me lo ricordo perfettamente era allo stadio Bregalo maio da rispetto ai difensori del Venezia Che in difesa è poca roba in questa stagione l'ha dimostrato Per oggi ha saputo tenere botta al Toro E segna Bregalo un bel gol al bollo incrociando E fa il gol di 2 a 0 Poi diciamo che il Venezia da lì è riuscito a svegliarsi Anche se il Toro ha avuto molte occasioni ma non sfruttate Pochi tiri verso la porta di Lezzerini assolutamente Segna il Venezia al minuto 38 con un Aps Colpo di testa, rivessa laterale, palla allargata da Oguereke Che trova lo spazio per il corridoio di Kningoi Che la crossa e colpisce di testa Aps che fa il gol del 1 a 1 Diciamo che è stato un primo tempo dove inizia meglio il Toro Che poi gestisce anche abbastanza bene la partita Ma poi trova un Venezia che ha guerrito Con molta qualità che mette in campo E quindi trova anche il gol E si affaccia diverse volte nella porta di Milinkovic Poi 2 a 1 L'approccio ora è diverso Perché è il Venezia che nel secondo tempo inizia meglio E segna Kningoi che fa un gol e un assist Effettivamente oggi ha fatto una gran partita E dopo 20 secondi il gran cross di Aramu forte E lui la gira veramente bene e fa il gol del 2 a 1 E quindi da lì il Venezia riesce a gestire la partita Il Toro fa, anzi, ha molte occasioni Però non le sfrutta Molti cross in mezzo Molti cambi di Juric per la fase offensiva È entrato appunto Belotti e molti, 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 molti altri Perché sono usciti anche difensori come Cici Poi Boda che è un po' più difensivo Sono entrati Zima che è un difensore centrale Zazza, Belotti, Ansaldi, Worm Tutti giocatori offensivi Che però non hanno dato i frutti Non hanno dato i frutti per il finale Belotti l'aveva dato Però comunque non sono riusciti a trovare il gol valido E quindi dopo il 2 a 1 Tanti cambi offensivi Il Toro attacca nei minuti finali Soprattutto negli ultimi 20 minuti Un quarto d'ora Dove il Venezia non ci ha capito più nulla Con il Toro che attacca molto Ha provato con qualche ripartenza la squadra di Zanetti Ma si porta a casa questi tre punti importantissimi È successo di tutto il live Direi partita emozionante Veramente bella Dove il Venezia sbanca Torino E non era un risultato molto facile da azzeccare Perché il Venezia fa il colpaccio Parliamoci chiaro Con un Toro che ha una delle migliori difese del campionato Una squadra compatta Unita nei reparti E una bella squadra Che però oggi perde Col Venezia E per questo è tutto Non succede più altro Cioè è finito Ok 2 a 1 E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao